Varese e Gavirate avevano già iniziato una bella sinergia a livello femminile. La partnership ufficializzata in mattinata all'arredo più arena di Viale Belforte rappresenta un ulteriore importante step in avanti. Massimo Fughinazzi, presidente del Gavirate, entrerà nella società biancorossa con pieno potere operativo a livello tecnico ed economico per quel che riguarda il settore giovanile del Varese. L'obiettivo è quello di crescere e portare il città di Varese al città di Varese un settore giovanile importante che possa essere da supporto alla prima squadra oggi ancora nel direttantismo ma domani nel professionismo. Quindi essere un riferimento in provincia come settore giovanile nella provincia di Varese. Gavirate e Varese resteranno due realtà ben distinte, due case della stessa famiglia. La sinergia porterà però ad una decisa crescita numerica tra tesserati e strutture con conseguente aumento del tasso di qualità. Valorizzare i giovani e il territorio per il futuro è il diktat lanciato da Fughinazzi che presto definirà la squadra di lavoro che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2024-2025. Il terzo quarto della vita lo vorrei dedicare al mio territorio, ai giovani che sono il futuro di domani e ovviamente nell'ambito di cui ho la passione che è il calcio. Quindi questo è insomma, quindi sono a tempo pieno dedicato in questo progetto.